Aveva suscitato polemiche e indignazione la notizia relativa ai nove posti auto rubati ai disabili proprio di fronte all'ospedale di Fiorenzuola, dove ogni giorno diverse auto parcheggiano negli stalli gialli riservati ad invalidi e pazienti dializzati. Una situazione di inciviltà che prosegue ormai da diverso tempo, dato che gli agenti della Polizia Municipale non possono intervenire, trattandosi di un'area di proprietà dell'ospedale. A questo proposito, ieri in prefettura, si è tenuto una riunione per trovare una soluzione al problema, un incontro voluto dal prefetto Maurizio Falco che ha portato ad una conclusione positiva. Entro il prossimo mese di luglio, infatti, l'ASL trasmetterà ufficialmente la proposta di cessione dell'area a favore del comune di Fiorenzuola, il quale provvederà subito a regolamentarne la sosta. Dal prossimo mese di settembre, infine, verranno legalmente individuati nell'area interessata i posteggi destinati ai disabili, che poi potranno essere utilizzati dall'utenza dotata di tesserino invalidi.